Men in inglese è men in inglese, cazzo, stiamo parlando di una londinese che va un weekend fuori porta nella campagna, nella brughiera britannica, cioè ragazzi, che accento vuoi che abbiano queste persone? Ma è fantastico come parlano, l'accento british che hanno. E allora io dico, si può vedere un film privato di tutta questa britishitudine? Direi proprio di no. Il trailer ce lo vedremo ovviamente in inglese, così capirete anche un po' dai pochi dialoghi che si sentiranno, penso. Chi non l'ha visto? Comunque cerco di non spoilerarlo, ma secondo me l'avete visto tutti, quindi vi dico già alla fine che è stato il maggiordomo, perché ovviamente è maschio, quindi è stato il maggiordomo per forza. Parliamo di Men, parliamo di Men ragazzi, un film di Alex Garland che ha fatto discutere, non si è capito bene ragazzi, secondo voi Men è piaciuto o non è piaciuto alla critica? È piaciuto o non è piaciuto al pubblico? Allora non vi spoilererò il fatto appunto che muoiono tutti, sto scherzando ovviamente, il film è un film interpretato da un'attrice meravigliosa che però io vi avevo già fatto conoscere, ma voi siete pigri, voi non leggete. Allora io vi faccio vedere che questa attrice, che è il fulcro di questo film, è abbastanza, è l'attrice di Beast, un film thriller, horror, uscito nel 2021 che io ho recensito andando all'anteprima, è stato al cinema tre giorni scarsi. L'attrice è Jessie Buckley, che vi faccio vedere con questa schermata, questa foto è veramente indecente, però qua possiamo magari vedere una foto, eccola qua, di Jessie Buckley, un'attrice proprio inglese, capite? Che è proprio un'attricione inglese. Andiamo a vederci il trailer, mamma mia che bomba ragazzi, allora ovviamente avete capito già da un pezzo che il film mi è piaciuto, lo trovo un buon film, direi un po' più di buon film, un ottimo film, un film bello anche cinematograficamente. Parlando proprio come è stato realizzato, ma Alex Garland ci ha abituato comunque a una grande sapienza tecnica, diciamo, nell'impostare inquadrature, insomma girare un film. Girare un film lo sa fare bene. Questo film forse non è stato capito da qualche persona perché fa un tipo di cinema che mi sembra anche abbastanza ovvio. È un cinema di allegorie, è un cinema che prende un racconto, una fiaba, e lo racconta usando l'escamotage del Surreale. Non so se vi viene in mente qualcosa, tipo Alice in Represa e Meraviglie o altri film di questo genere. Un film molto simile a questo, per esempio, come genere proprio, è Titan. E penso che le critiche che sono state rivolte poi a questo film sono più o meno simili alle critiche che sono state rivolte a Titan. Chissà perché c'è sempre il tema del genere di mezzo. Chissà perché sia in Titan che in Men c'è tanta rabbia e c'è tanto il tema del genere in mezzo. Quindi maschi, femmine, sessualità, identità sessuale, identità di genere, no? Insomma, questi sono film che sembra quasi, che non sembra quasi, sono film dove la discussione cinematografica viene un po' a mancare e inizia a esserci solo la discussione ideologica e politica e sociale che c'è dietro a queste tematiche, no? Questo è un film che si chiama Men, che qualcuno potrebbe interpretare come un film contro gli uomini. Perché? Perché in questo film la protagonista, adesso vi racconto l'inizio della trama, ma la protagonista decide di fare, questa ragazza decide di fare una, un piccolo weekend fuori porta in una bella casa di campagna un po' antica, in un bel posto da sola per i cazzi suoi. E non lo so, poi, adesso poi tutte le scelte sono discutibili, ma è comunque stiamo parlando di una, di una storia, non di vero somiglianza con la realtà, che è un po', e qui c'è il cortocircuito mentale di alcuni soggetti. In questa vacanza scopriamo, insomma, incontra questo padrone di casa che gli affitta la casa, questo signore particolare, interpretato da questo attore bravissimo, anche lui, veramente meraviglioso, sia lui che lei sono, diciamo, colonne portanti di questo film. Però in questa cittadina, in questo paesino, inizia a conoscere, a incontrare persone che, questo è leggermente uno spoiler, ma io stesso lo sapevo prima di vedere il film, quindi non lo ritengo uno spoiler importante, però diciamo non vado oltre questo. Le persone che incontra sono tutte con lo stesso volto, ma non con lo stesso volto inteso, questo si intuisce anche un po' dal trailer, non inteso come tutti identici, ma tutti con una fisionomia uguale e poi con delle caratteristiche leggermente diverse, nel senso che uno è più giovane, uno è più grasso, uno è più magro, uno ha della barba, è la barba, l'altro no, quindi diciamo che la somiglianza tra i personaggi è molto forte, quindi la ragazza avrebbe dovuto accorgersene e come. E questo dovrebbe essere il biglietto da visita del film, cioè questo catapulta l'intero film in una dimensione assolutamente onirica e allegorica, cioè la ragazza non riconosce i personaggi tutti uguali, quindi non è in discussione il fatto che il film debba o no essere verosimile. Il film è inverosimile. Ora, lui fa una domanda, Carla, dice, gli uomini, cioè gli uomini hanno tutti lo stesso volto. Allora lui dice, la domanda qual è? Gli uomini hanno tutti, gli uomini sono tutti uguali? Il messaggio di questo film è, gli uomini sono tutti uguali? O lei vede gli uomini tutti uguali? Questo è molto interessante anche per capire il tema del film. Cioè il tema del film non è tanto fare un manifesto in favore delle donne, secondo me. Cioè in parte c'è una volontà di esprimere un proprio giudizio e un proprio disappunto su ciò che la società è stata fino ad oggi, sul patriarcato sicuramente e tutto il resto. Ma la cosa interessante che fa Garland e che fanno tutti i registri che vogliono fare un po' un upgrade nel loro cinema è quello di creare qualcosa che faccia riflettere, che faccia porre dei quesiti allo spettatore, non che dia delle risposte. Perché le risposte sono per gli stupidi, le domande sono per le persone intelligenti. E secondo me lui ha questa volontà. Soprattutto io penso, siccome il film comunque vede questa donna perseguitata da questi uomini, cerco comunque di mantenermi per non spoilerare, chiaramente il primo pensiero che uno spettatore fa o un recensore dell'ultima ora fa è qui si vuole demonizzare la figura dell'uomo eccetera eccetera. In realtà la mia interpretazione è tutt'altra. Il film in realtà parla dell'elaborazione del lutto. Nell'elaborazione del lutto emergono anche gli aspetti del lutto e del senso di colpa fondamentalmente. Emergono anche gli aspetti tossici della relazione tra uomo e donna, diciamo. Questa è un'interpretazione che comprende tutto. In questo gioco noi abbiamo la visione della donna. Noi non abbiamo la visione dell'uomo, non abbiamo... La storia è la storia della donna. E la storia è il fulcro. Il fulcro non è il patriarcato, il maschilismo. Il fulcro è la difficoltà di questa donna di liberarsi di quest'uomo, che è un uomo che la vuole possedere come... Quest'uomo è il marito, no? Poi direte, è il marito, quindi ha diritto su di lei, no? No. È anche una forma di critica nei confronti di come noi interpretiamo le relazioni, no? Cioè le relazioni che uccidono la felicità dell'altro, che la intossicano, che sono legate al possesso della persona. C'è sicuramente un fortissimo tema sul patriarcato e sulla figura dell'uomo. Perché? Perché c'è il tema della maternità all'interno del film, che è un tema che pone la donna in una posizione naturalmente, biologicamente, scientificamente di svantaggio, fondamentalmente. Di svantaggio, chiaramente vi spiego perché, non in generale. Perché è obbligata a fare quello, è costretta lei a farlo. Non è una cosa che dici, va, stavolta la fai tu, la prossima volta la faccio io. No. È il suo ruolo biologico che in qualche modo già la mette in una condizione di sfavore. All'interno del film ci sono delle citazioni bibliche che fanno riferimento proprio all'uomo che si impadronisce della donna in modo violento, tramite lo stupro, tramite l'uso, l'abuso della donna come oggetto, come oggetto del desiderio, come oggetto della procreazione. E quindi sicuramente c'è una forte critica. Ma la cosa interessante del film, secondo me, sta proprio nel fatto che la storia è un'altra. La storia è la storia di lei. E di un senso di colpa molto forte che lei ha, perché effettivamente succederà una cosa che la metterà in una situazione difficile da accettare. Però al contempo riesce a veicolare dei messaggi e a porre delle domande sulla situazione attuale. Secondo me è un film bello anche perché non è chiaro nella sua totalità. Non è così chiaro. Il tema della maternità è fortissimo, al punto tale che tantissimi elementi come il tunnel, come per esempio ci sono buchi fuori orbita delle orbite degli occhi degli animali morti, ci sono buche delle lettere che vengono attraversate da delle braccia, il discorso della penetrazione e del parto, perché il parto e la penetrazione sono chiaramente parte dello stesso argomento, è continuo e ovviamente è un'immagine visiva allegorica che si ripete sempre nel film. Quindi fondamentalmente rimarca molto sul ruolo che la donna ha in questo processo e alla fine, vabbè, non posso spiegarlo per via di alcune persone che non l'hanno visto, però si dibalteranno i ruoli e sarà l'uomo a riprodurre quel processo lì ed è molto interessante secondo me. Il film è molto bello esteticamente, molto molto bello, è veramente una cosa meravigliosa e mi è piaciuto anche tantissimo, anche se è una struttura semplice, non è una struttura complessa, mi è piaciuto anche la composizione narrativa a puzzle, diciamo che la prima parte è una specie di ricomposizione di che cosa è accaduto, per cui noi vediamo una scena ma non la capiamo, poi vediamo un'altra scena, la rimettiamo insieme alla scena precedente e iniziamo a rimettere insieme i pezzi, ma nel percorso di ricomposizione di cosa è accaduto, come è giusto che sia per il divertimento anche dello spettatore che segue la storia, pensiamo tutt'altra cosa, quindi pensiamo che il marito è morto in un certo modo, poi pensiamo che è morto in un altro modo ancora, poi pensiamo che in fondo se non sia una cattiva persona poi pensiamo un'altra cosa, quindi è veramente montato, è creato, diciamo montato proprio a livello di sceneggiatura molto bene e divertente. Non è chiaro al pubblico, quindi dico anche la critica perché la critica è la prima che si ancora ad un certo tipo di stilemi e modi di raccontare e forse è un po' strano perché la critica dovrebbe avere una storia, forse la critica ha perso la sua storia, forse la critica ha avuto un riciclo di persone che non hanno infilato le loro radici così a fondo da conoscere il cinema allegorico, il cinema sperimentale, il cinema libero, artistico, che permette di raccontare qualcosa e che non è in funzione del razionale della condiscendenza verso il pubblico. mi sembra che se la critica non riconosce un minimo di dignità, io non dico che debba piacere al 100%, che debba essere considerato un capolavoro, io stesso non considero questo film un capolavoro, però questo è un film che per onestà intellettuale deve rientrare tra i film discreti, quindi se lo consideri un film, non consideri bene questo film, non puoi comunque denigrarlo nel modo in cui viene fatto in alcune situazioni, che poi uno lo consideri un capolavoro, per me è scorretto comunque perché non siamo di fronte a tale cosa, ma perché non siamo di fronte a tale cosa? Perché noi viviamo nell'epoca del già visto e già fatto, quindi è difficile attribuire l'etichetta di capolavoro a un film che fondamentalmente si rifà a tutto quello che è già stato fatto. nel momento in cui uno cerca di razionalizzare questo film perché si sente in diritto in quanto lui ha visto Ex Machina e poi ha visto quell'altro film che erano scientifici, molto credibili, allora ragazzi scusatemi ma gli appellativi qua sono un pochino forti perché mi vengono proprio così, sei un po' coglione secondo me, perché questo film fa questo e non è la prima volta nel cinema, anzi direi che è dagli albori che si può fare, si può raccontare una storia surreale, non perfettamente logica, eccetera. A parte che bisognerebbe anche sentire chi l'ha fatto per poi criticare in questo modo, però apprezzo molto in realtà i registi che non dicono un cazzo perché il bello di un film così è che le persone possano farci un po' di pensieri sopra e portarsi a casa anche qualcosa che non era stato previsto dal film. Io per esempio nella mia interpretazione quando la protagonista attraversa il tunnel e fa questi suoni ci ho visto una sorta di richiamo a qualcosa come se avesse svegliato qualcosa qualcosa che sono appunto questi demoni questi demoni che sono il senso di colpa gli aspetti tossici della sua relazione quando c'è quella scena lì ho avuto la sensazione che lei fosse su un punto di passaggio come tra l'aldilà e l'aldiquà un po' come l'attraversamento della vagina quando nasciamo è come se noi non ci fossimo in qualche maniera e poi ci siamo cioè quello è il quel varco lì quel buco lì perché è un buco alla fine il film parla di buchi è pieno di buchi il film è pieno di buchi c'è persino questa immagine di questa divinità pagana che viene stranamente inserita in una specie di altarino dentro anche una chiesa questa divinità pagana che tutti conoscerete che ha questa bocca che è un buco con le foglie tutte intorno e la faccia è anch'essa un buco è un buco ovunque è un film fatto di buchi di attraversamenti di buchi e questo tunnel l'uomo verde esatto questo tunnel mi ha ricordato proprio il tunnel di uscita verso la vita e lei entrando in questo tunnel facendo questi versi divertita dall'eco mi ha dato la sensazione quasi di accendere ciò che stava per accadere lo ha acceso in realtà non è così perché c'è già comunque il personaggio di però ci sono delle cose che possono anche essere interpretate in diversi modi come il finale che non vi sto a dire ma che mostra delle tracce di sangue e non che cosa nel finale come ve lo dico non è spoiler non vi preoccupate vedremo delle tracce di sangue ma non cosa ha generato quelle tracce di sangue in pieno giorno vedremo questa cosa e quindi che cosa significa questo e chi cazzo se ne frega in un certo senso cioè nel senso perché devo capire sempre tutto come cazzo voglio io secondo quelli che sono i canoni del cinema che sono abituato a vedere che cazzo ne so gli Avengers perché quella cosa non può essere criptica proprio per instillare in me mille domande che possano farmi riflettere quindi secondo me fondamentalmente questo film piace a quelli a cui è piaciuto Titan e non piace a quelli che non è piaciuto Titan ci sono degli aspetti che io ho apprezzato molto che sono di body horror che molto ingenuamente secondo me vengono attribuiti a una sorta di citazionismo di Brian Yuzna vi spiego perché molto ingenuamente perché semplicemente per questo perché il fatto che Yuzna abbia creato in society per esempio delle scene body horror di un certo tipo non lo rende comunque il creatore di quella immagine cioè quella immagine della fusione dei corpi non è inventata da lui quindi è semplicemente ciò che noi ci ricordiamo noi ci ricordiamo lui perché lui è stato famoso per quella scena lì e quindi c'è una somiglianza io quello che voglio spiegare con questo discorso è che a volte noi trasformiamo una somiglianza in una citazione o in un plagio mentre in realtà è solo una somiglianza nella storia è spiegato perché si vede si capisce perché a un certo punto il parto avviene in un modo così particolare perché muta in continuazione quindi da una parte si potrebbe anche dire sì ricorda però non lo chiamerei sicuramente plagio o scopiazzatura ecco più che altro lo chiamerei somiglianza ma direi che il cinema è fatto di somiglianze senza somiglianze non avremmo miliardi di film e non sono un grande esperto o una persona molto attenta adesso vi leggo tutti eh promesso così vi dico anche diciamo per fare una recensione proprio terra terra per me il film è girato benissimo una fotografia bellissima non cioè ci sono cose molto più interessanti in giro sicuramente ma è una bella fotografia bellissima anche quella direi e soprattutto interpretazione mostre di tutti e due i protagonisti è una un film potente del raccontato bene una bella storia horror un percorso di evoluzione emotiva raccontato come se fosse un horror home invasion quasi un home invasion sembra il film ed è una cosa masturbatoria per chi ama porsi delle domande su su se stessi sul rapporto con gli uomini con le donne con con tutte queste cose qua quindi è veramente un film che stimolante dal punto di vista delle domande e l'ho trovato non così tanto accusatorio nei confronti cioè non così tanto come viene detto in giro non che non ci sia un'accusa nei confronti degli uomini intesi come la figura dell'uomo patriarcale maschilista e tutto quello che cazzo vuoi che c'è sicuramente però attenzione attenzione quando si accusa un uomo di essere così e voi vi sentite chiamati in causa avete un grosso problema perché se in un film si sceglie di fare l'assassino o lo stupratore uomo io non mi sento chiamato in causa eppure è stato scelto di farlo uomo in questo caso è una critica rivolta a una società a un sistema e a un certo tipo di uomini anche inconsapevoli di certi comportamenti quindi è una critica nel quale io non mi sento colpito non mi sento accusato e quindi certe recensioni certi atteggiamenti sulla difensiva che ho trovato in giro li ho trovati veramente ridicoli la cosa ridicola è che chi le scrive non si rende conto che fondamentalmente si autodichiara estremamente nemico delle donne estremamente perché si accende si arrabbia si infuria contro un discorso che non vuol capire che non vuol ammettere io non ne faccio una mia campagna personale ma comunque sono d'accordo sul fatto che ci siano dei comportamenti maschilisti misogini che nella nostra società che vanno assolutamente discussi e insomma di cui bisogna liberarsi questo non significa che non ci siano tante altre cose che riguardano la prevaricazione delle persone sia maschi che femmine l'una sugli altri ecco la cosa che mi ha infastidito di più è la cgi del volto dell'attore sul bambino perché su un ragazzino che a un certo punto appare c'è la faccia dell'attore perché chiaramente tutti i maschi hanno la stessa faccia ecco essendo che il bambino è più piccolo la faccia di questo attore è stata posizionata male sopra questo personaggio soprattutto nella scena iniziale quella dove lui prima ha una maschera di donna tra l'altro tutti questi simbolismi ma è pieno di simbolismi bellissimi poi c'è a chi non piacciono i film sui simbolismi perché perché non gli piacciono perché non li capisce e si annoia molto semplice un simbolismo molto semplice la ragazza arriva nella nella casa di campagna prende una mela dall'albero e lui la redarguisce poi dopo le dice questa è aggressività passiva no? dopo la redarguisce dice ahiaiaiai hai rubato una mela non si fa chi è che chi è che vi ha detto per la prima volta che non si rubano le mele? il buon signore il buon signore quindi ci sono un sacco di dopo le mele cadranno tutte ci sono tutto ci sono un sacco di bellissime immagini allegoriche e simbolismi dappertutto a me piacciono i film così per me è girato benissimo è una bella storia horror non troppo profonda ma con tante domande profonde che sinceramente non non riesco veramente a prendere questo film e metterlo su un tavolo operatorio sezionarlo e dare un nome a ogni pezzettino e non me ne frega neanche un cazzo fondamentalmente anzi probabilmente è un ottimo film da riguardare per notare cose in un certo modo documentarsi per esempio ci sono delle delle citazioni ci sono due o tre citazioni letterarie interessanti che io sono andato a guardare velocemente ma che non mi ricordo a memoria quindi non ve le dico che sono interessanti come ci sono anche in altri film interessanti come per esempio The Lighthouse ci sono delle citazioni letterarie molto fighe grazie mille grazie mille Chris Cronenberg grazie mille per i 50 bit comunque appunto non mi è piaciuto questo deep fake questa faccia applicata sul ragazzino che però poi sul finale funziona un po' meglio però comunque non mi è piaciuta molto lì una cosa un aspetto tecnico però non mi interessa nel senso ci sono tante cose da analizzare nel film perché ci sono delle urla degli echi ma secondo me è un film che probabilmente rivedendolo avrei altre cose da dire troppa roba tutte insieme in una storia che però in realtà è molto semplice basta questo è quanto adesso leggo i vostri commenti eventualmente se c'è qualcosa che riguarda il film lo commento e poi passiamo anche ad altro cioè lei vede gli uomini tutti uguali ma non li vede uguali quindi non si accorge che sono tutti uguali quindi quella è la dichiarazione del fatto che il film già ha preso una strada totalmente onirica di fantasia di pur rimanendo coi piedi per terra registicamente perché sembra reale sembra che lei sia lì ed è anche molto carino il gioco horror che lui fa cioè lui fa dei giochi di luci luci accese luci spente molto divertenti molto belli secondo me all'interno di questo film molto divertenti qualcosa che non è appunto come ho già detto Garland non si inventa nulla secondo me già visto ma quando tu prendi il già visto e lo riutilizzi bene vuol dire che sei un bravo regista basta poi il tempo dirà se sei un po' più di quello che sei ok che sei un po' più di quello che sei che sei un po' più di quello che sei